Ciao Ciao Grazie Come oggi? Oggi voglio fare un video diverso Perché diverso? Lo vedete? Perché questo video è in verticale E perché E perché Ho deciso di fare questo video in verticale Perché Io trovo che I video smr A tutto schermo Siano molto Molto Più efficaci A livello proprio di A livello visivo Unico difetto Che sull'autunno si possono leggere i commenti Perché è un po' più scomodo Quindi E Oggi voglio provare a fare Un po' di trigger In questa modalità Il video in sé sarà semplice È un pochino un esperimento E Secondo me Ve l'ho proposto anche su Youtube Non mi ricordo Ma su Instagram ho avuto veramente Tantissime Tantissimo entusiasmo a riguardo Non so bene se guardare qui Qui o qui Perché sto registrando con l'iphone Quindi perdonatemi se non guardo esattamente Guarderò tipo in mezzo E Appoggi i microfoni E So che sentirete un pochino di rumore di tessuto Spero non vi dia fastidio Ah Sì Ho Cambiato Quello di capelli L'ho anche un pochino tagliati E Sono abbinata allo sfondo Tutto abbinato Spero che sia soddisfacente come cosa O anche Il pennello Abbinato Fate voi E Ovviamente questo colore si scaricherà pian piano Già nel prossimo video li vedete più scarichi Però Dopo i capelli tenderanno un grigino Freddo Stupendo Io amo questo colore tantissimo Non si preferisco questo rosa Però non vedevo l'ora di rifarlo Diciamo anche il pennello è Abbinato Allora Io comincerei con un banalissimo Via i pensieri E Voi dovete semplicemente mettere i pensieri che volete Di cui volete liberarvi In cima Davanti alla fila Fatevi saltare la fila i vostri pensieri E metteteli davanti 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 In modo che io possa Prenderli con Facilità 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 Quindi Lo farò Tre volte Prendo 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 E Prendo P要 Prendendo Adesso facciamo un po' di brushing E poi farò una ripresa Diciamo alle mani E sfoglieremo un libro di cucina Vi farò vedere alcune cose Insomma Farò un pochino di visual trigger Come se stessi facendo delle storie So che molti di voi piacciono le mie storie su Instagram Trovate come Chiara.sml Perché Vi piace appunto la visione verticale E li trovate anche interessanti Grazie Quindi Eccoci qua Ah facciamo anche un po' di tracing Vediamo Sarò originale Yes Pennello Lo faccio anche con questa parte Chiara Spero di riprenderlo tutto Un'idea A S M Et Relaasso Chiara 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 S마 Chiara Visto che questo è un video sperimentale, mi raccomando Fatemi sapere in modo chiaro cosa ne pensate, mi piace, non mi piace, commenti, parlatemi Davvero interagite con me il più possibile per farmi capire cosa ne pensate Per il più interagite, più capisco, cosa vi può piacere Se questa tipologia vi piace, voi non mettete mi piace, non commentate Se tanti di voi fanno così, io non la farò più Quindi fatte sentire, fatte sentire, mi raccomando E' una strada di metto tinta Eccoci qua Quindi facciamo ancora un pochino di brushing E se vi piacerà potrete fare anche dei roleplay, così insomma Ditemi, datevi delle idee, io vi ascolto, vi leggo sempre Questo video però sarà un po' corto sicuramente perché sto registrando alle 7 di sera E' domenica però, c'è traffico Io sto sfruttando la luce naturale che secondo me è molto più bella Però questo non filtra Non mi permetto di chiedere le serrante E a tutti i ragioni del traffico Però credetemi, è l'unico momento libero Perché vi dico solo che oggi è domenica 20, 21, domenica 20, domenica 21 E chi deve intendere, intenda a livello proprio nazionale di calcio Quindi ho paura che se io registro Se io arrivassi anche solo di 20 minuti Questo video non potrebbe registrare fino tipo a mezzanotte Già per stasera la live Non lo so come sarò messa, spero non ci saranno troppi di calcio in giro Comunque vada Quindi speriamo Io comincio la live alle 23 Quindi Io comincio la live sulla piattaforma di ora alle 23 Quindi spero che a quell'ora la situasi sia un po' calmata Non lo so Passiamo un pochino agli altri video Che real tipo touching A queste cose qui, al tracing Insomma, avete capito? Ok Allora adesso andiamo a sfogliare Mi fa stranissimo girare un video per YouTube Così Però andiamo a fare un pochino di tracing Questo me l'ha regalato uno, una di voi Non lo so Della wishlist E ringrazio chiunque sia stato perché L'uomo Grazie Davvero Grazie davvero a chi me l'ha regalato Andiamo a fare un pochino di tracing Mi dispiace tantissimo per Il traffico davvero Diciamo che oggi è un'eccezione Comida 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 mi sembra che io stia disegnando con un pastello stranissimo andiamo a sfogliarlo tra l'altro è bellissimo perché ti racconta tutte le storie molotes quasi nessuno è vegano o vegetariano di questi piatti però sto diventando abbastanza brava a veganizzare le cose in realtà per certe cose è molto semplice perché il pollo vegano c'è, il macinato, il hamburger ad esempio qui cosa c'è? questo sarei tipo tofu e macinato vegetale ad esempio e quanto è bello vi giuro io adoro sfogliare libri di cucina mi rilassa da matti e poi è super colorato adoro facciamo questo, aspettate vorrei farlo sulla mia mano ma non ci riesco quanto è rilassante io impazzisco per queste cose spero impazzisca anche voi come me qui ho la mia Nintendo e presto farò un video su ecco appunto Animal Crossing e spero sarà di vostro gradimento quando lo farò adesso vediamo adesso vediamo, vi mostro un pochino di roba vado in giro visto che vi rilassa tanto facciamo anche un po' di coccole ad ami si ma si amore e amore e amore la mia piccolina, la mia cucciola bella dolce, il mio cuorecino sei veramente il mio cuorecino la mia bimba dolce 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 piccolina una scuccetta qui è dove dorme tutte le notti di fianco a noi qui c'è il piumino ok mi dispiace davvero che il video sia così corto ma è anche un pochino improvvisato e io però spero che abbia dato un po' di privilegi essendo in verticale magari la prossima volta potrei fare uno show in time così in cui proprio riprendo dal cellulare tipo che faccio dei miei gioielli o i miei trucchi di te qui purtroppo no non ha praticamente niente qui con me ho solo i miei smalti ma fanno un casino tremendo quindi evito però mi chiedete spessissimo che smalti utilizzo perché comunque come vedete durano abbastanza anche ritoccando una settimana io utilizzo principalmente due marche abbastanza low cost vorrei cominciare a utilizzare marche anche un po' più eco friendly sicuramente però per ora mi sento di consigliarvi queste due queste due sono Essence Kikwe Essence questi qui questo colore quello che indosso è il 73 beach please questi gel nel polish dell'Essence sono validissimi perché sono un po' spessi ci mettono un pochino ad asciugarsi ne faccio due o addirittura tre strati ci metti un po' guardati una puntata di Grey's Anatomy che bella lunga però durano veramente tanto e poi gli altri miei consigliari sono questi della Kikwe Power Pro Nail Aquare Nail Aquare questo in particolare è quello che ho usato anche nel mio matrimonio per farvi capire quanto mi piace è il numero 104 non capisco se sia 104 o 301 non lo so non so il colore c'è scritto da qualche parte in ogni caso validissimo anche questo 2 bar 3 strati si esce un pochino più velocemente e avete apprezzato tanto anche quando mi sono messa questo che è della vecchia collezione della S insomma vedete col vecchio pack ma penso ci sia anche nella collezione nuova questo è il colore 66 bellissimo sempre di questi Nail The Gel Nail Polish validissimi validissimi e soprattutto costa un poco quindi ne potete prendere anche due o tre non esagerate non comprate cose che non vi servono però insomma eccoci bene detto questo questi sono di solito quelli che mi durano di più uso anche quelli della pupa che sono molto belli ma mi durano un pochino di meno sulla mia unghia ovviamente io non faccio chissà che cosa cioè faccio sport ma non non mi imboccio le mani non non le uso troppissimo quindi oppure ad esempio non non sto lì sempre non lavo i piatti a mano queste cose qui o difficilmente lavo i vestiti a mano che sono cose che magari possono correre un pochino allo smastro però comunque per sempre una vita normale mi durano abbastanza e spero possa servire d'aiuto perché io non faccio né mai gel né semi permanente perché trovo finire le unghie non le ho mai fatte ma tutti mi dicono che comunque le unghie vanno un pochino ehm diciamo smaltate limate sotto e le mie unghie sono forti naturalmente e no vanno bene così mi piacciono così voglio poterle cambiare quando voglio quindi grazie aver guardato questo video io non lo so spero davvero vi piacerà e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 se adiuntano allora allora al passare al passare le frutti e al corare al corare al corare una buona 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 notte sonidor good night sweet dreams buona snor che stulsi sueños buon noi vede show your head good night to le canocht le canocht le canocht le canocht buonanotte mie crepe con il cioccolato con le crepe con il cioccolato un bacione come sempre ti voglio bene ti voglio bene ti auguro il meglio spero che questa settimana sarà la migliore della tua vita un bacione e che le spera e che le spera il cioccolato il cioccolato che si non